Primo giorno di scuole chiuse ma non ne si rinuncia a vivere la normalità. Intanto a Scicli paure ingiustificate per due casi sospetti a rischio la cavalcata di San Giuseppe. Oltre 4 milioni di euro per il recupero dell'ex convento della croce a Scicli a darle notizie il deputato Ibleo Razio Ragusa che parla di una prima conquista attesa da anni. Il dopo Melilli a vittoria per la Lega si chiama Stefano Frasca e lui il nuovo commissario del partito di Matteo Salvini in una città che si prepara alle prossime amministrative di fine anno. L'illuminazione a led bianchi che tante critiche aveva sollevato a Modica destinata a lasciare il posto alla tradizionale luce calda ha trovato l'accordo per tre tipologie per altrettante zone cittadine. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di DG74. In apertura anche oggi le ultime notizie riguardo i provvedimenti adottati per contenere l'emergenza coronavirus. Oggi primo giorno di scuole chiuse anche se la maggior parte delle persone non sembra aver rinunciato a vivere la normalità. Intanto il sindaco di Scicli rassicura in merito ai presunti casi cittadini che restano ancora da accertare. La situazione ha affermato e sotto controllo ma si valuta se annullare la tradizionale cavalcata di San Giuseppe. I dettagli nel servizio. Chiudono le scuole ma le persone non smettono di vivere e muoversi così come hanno sempre fatto. Una precauzione che almeno per ora anche in territorio ebleo sembra essere stata bene recepita dai ragusani che comunque non hanno rinunciato alla normalità certo con qualche precauzione. Intanto non si registrano particolari novità in merito ai casi blei. Resta uno quello accertato tramite doppio tampone. Si tratterebbe di una donna di 58 anni. Così come sempre donne. Sono tutti gli altri casi da accertare di cui si è data notizia anche nelle scorse ore. In particolare madre e figlia residenti nella periferia di Scicli ancora in isolamento volontario in attesa di conferme. Notizia della loro presenza in città defragata sui social provocando reazioni allarmistiche ingiustificate. Le due sarebbero tornate a Scicli da Codogno per prendere parte al funerale di una loro vicinissima parente morta in una casa di riposo. Celebrazione che ha visto la partecipazione di centinaia di persone e molte delle quali hanno anche avuto contatto con le due adesso in isolamento precauzionale. Diffusa quindi la notizia del coronavirus madre e figlia. Si sarebbero poste in auto quarantena. Ad oggi, lo ricordiamo, non c'è alcuna conferma ufficiale che le due donne siano effettivamente state contagiate da coronavirus. Il caso cittadino che sicuramente ha fatto tanto discutere è terminato anche alle attenzioni del sindaco Enzo Giannone che rassicura facendo capire che i tamponi sono stati già effettuati e che si lavora in piena sinergia con le autorità sanitarie. Io posso dire solo questo, che sin dal 24 febbraio, cioè dal giorno successivo al primo decreto del governo, il sindaco di Scicli, il comune di Scicli, si è attivato per un'azione di controllo, monitoraggio e segnalazione alle autorità competenti di eventuali situazioni di rischio per la salute dell'incolumità cittadina. L'azienda sanitaria provinciale ha svolto quanto di sua competenza sotto una forma di cabina di regia che è coordinata da Sua Eccellenza il Prefetto. E quindi la situazione è sotto controllo. Io non credo che ci siano rischi ad oggi per la popolazione, per i cittadini, anche in provincia di Ragusa, come altrove ci saranno e ci sono, ritengo, situazioni da attenzionare ed è quello che si sta facendo. Il sindaco ha anche annunciato che chiuderanno i centri anziani, che a Scicli sono molto frequentati. In queste ore si sta valutando, come è probabile sarà, di bloccare anche alcune manifestazioni all'aperto come la famosa cavalcata di San Giuseppe. A rassicurare e ricordare che il caso di scontrato a Ragusa è attualmente accertato e sole soltanto uno è l'Aspesette che comunica anche di aver stoppato le ferie di tutto il personale negli ospedali blei. Con una circolare fatta a recapitare a tutti i dipendenti dell'azienda sanitaria, la Direzione Generale ha revocato fino a nuove disposizioni tutte le richieste di congedo ordinario. Sempre a causa dell'emergenza coronavirus, rinviata a data da destinarsi, la riunione indetta per oggi alle 15.30 al Libero Consorzio Comunale di Ragusa in merito al Parco degli Iblei. Intanto, Confcommercio Provinciale Ragusa, unitamente ad altre realtà provinciali della Sicilia, ha avanzato al governatore Musumeci una serie di richieste per far sì che anche le piccole e medie imprese del settore operativo nell'area Iblea possano essere aiutate a superare questo momento complicato legato all'emergenza coronavirus. E intanto, come avete sentito dal servizio, è stata ufficialmente annullata la cavalcata di San Giuseppe, prevista con un doppio appuntamento di aprile sia a Scicli che a Donna Lucate. Restiamo a parlare di coronavirus perché abbiamo chiesto a diversi cittadini le loro impressioni riguardo un decreto, quello conte, che impone la chiusura di tutte le scuole italiane, unico a memoria d'uomo, nonché particolari accorgimenti precauzionali. Sentiamo quindi le loro risposte. C'è chi pensa siano un po' tardive e chi siano un po' eccessive, ma molti concordano che siano necessarie. Le nuove disposizioni per fermare il coronavirus e limitare i contagi sono entrate in vigore e anche i cittadini Iblei devono adeguarsi. Hanno fatto molto bene, anzi forse potevamo pensarci prima. Le direttive sono utilissime, anche se direi che c'è un po' troppo allarmismo in giro, quindi si sta creando un po' il panico e le persone stanno iniziando a dare un po' di matto. Io non lo so, ci nascondono qualcosa perché forse mi sembra un po' troppo... l'allarme si è allarmata troppo la popolazione. Lo so, perché alcuni dicono che sia una semplice influenza, alcuni parlano per esempio di questa pandemia. Però c'è anche da considerare che con le altre influenze i morti ci sono stati sempre ugualmente. Ancora, chiaro non lo so, se serve a qualcosa di tenere le scuole chiusi per questi 15 giorni, va bene, che ben avranno avuto i loro buoni motivi per fare questa cosa qua. Sono ritenute necessarie dal governo, per cui dobbiamo necessariamente adattarci, anche perché è più giusto adottarle piuttosto che correre comunque i rischi di essere contagiati. Più che le misure adottate dal punto di vista formale, il discorso è che adesso queste misure devono essere applicate con il buon senso e con la concretenza, perché è inutile che ci impongono di non abbracciarci oppure non baciarci, e poi però in alcuni casi ci sono dei luoghi in cui mancano i disinfettanti oppure altri luoghi che per altri motivi le persone comunque rimangono a meno di un mezzo di distanza, quindi fanno ridere. Se non c'è serietà a tutto campo non avrà senso fare tutte queste cose inutili arrivati a questo punto. Sono venuti l'altro iere dei turisti di Milano e di Firenze, comunque sui 50 anni di mezza età mi hanno detto che loro hanno più paura del virus mediatico che si è creato di quello effettivo biologico. Diciamo che loro intanto sono scappati un po' dai loro paesi per venire in Sicilia, dove magari ancora il contagio non è così come nel nord Italia. Queste norme servono proprio per la nostra sicurezza, quindi non farci prendere dal panico se chiudono le scuole, perché comunque è una misura appunto di prevenzione. La preoccupazione c'è, c'è perché comunque io ho un figlio piccolo di un anno che è un po' debole di bronchi, poi lui facilmente prende la bronchita asmatica, quindi il mio pensiero viene a lui, tutto qua. Per il resto no, ascolto chi ha detto che comunque non siamo tutti soggetti a rischio. E intanto a Ragusa si registra proprio oggi il duro attacco da parte del Movimento 5 Stelle nei confronti dell'assessore al turismo Ciccio Barone. Secondo il capogruppo Firincelli, l'incontro indetto dallo stesso Barone con gli altri assessori della provincia in tema di coronavirus è stato un flop in termini di presenze. I dettagli nel servizio. Un mezzo flop è un risultato deludente. E' così che il Movimento 5 Stelle di Ragusa commenta l'iniziativa avviata dall'assessore al turismo Ciccio Barone in merito al vertice tenuto lunedì scorso negli uffici comunali di Contrada a Mugno. Incontro voluto dallo stesso Barone che ha chiamato a raccolta tutti gli assessori con delega al turismo della provincia eblea. Obiettivo dell'incontro è adottare strategie a sostegno del comparto turistico fortemente danneggiato dall'allarme coronavirus e la richiesta di interventi mirati da sottoporre al governo regionale e nazionale. Quello che si è visto, secondo il capogruppo del Movimento 5 Stelle Ragusa, Sergio Firincelli, è stato un mezzo flop con solo tre assessori che hanno risposto all'appello di Barone. L'assessore Barone continua ad avere, afferma Firincelli, atteggiamenti da prima donna che infatti sono stati ben compresi dai colleghi degli altri comuni i quali, guarda caso, non si sono presentati alla convocazione di lunedì scorso. Ci piacerebbe piuttosto sapere, continua Firincelli, quali dovrebbero essere le misure che lui assieme ai suoi colleghi dovrebbero adottare, visto che le stesse, considerata la fluttuazione di informazioni e di atteggiamenti da adottare alla luce delle indicazioni che arrivano dal Comitato Tecnico Scientifico, potrebbero già non avere più un senso un minuto dopo l'approvazione. Ci faccia capire, insomma, quali sono le iniziative che intende mettere in campo, fermo restando che nessuna misura o rassicurazione in questo momento potrà convincere i potenziali turisti dal mondo o gli italiani di altre regioni a venire a passare le vacanze qui da noi e viceversa. Quindi ci sembra in qualche modo un confronto che non porterà ad alcunché di concreto, a parte un articolo sul giornale per una passerella politica. L'unica cosa che Barone potrebbe fare è quella continua Firincelli di mettere mano al portafogli e di risarcire per i mancati introiti le strutture ricettive o quelle realtà che si occupano di somministrazione e a seguire tutte le attività che di questa epidemia risentiranno più o meno pesantemente. Intanto, sempre lo scorso lunedì, si è terminato decidendo di tornare a riunirsi sempre attorno allo stesso tavolo il prossimo 10 marzo con l'intenzione di siglare un accordo congiunto di iniziative da intraprendere. Per i 5 Stelle, martedì prossimo, si assisterà all'ennesimo preannunciato flop di presenze. I sindaci di Comiso e Chiaramonte, Gulfi, Maria Rita Schembari e Sebastiano Gurrieri sono stati ricevuti oggi dal commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza per individuare soluzioni per il ripristino del manto stradale e la messa in sicurezza dell'ex provinciale pedalino Comiso e Chiaramonte che presenta diverse criticità perché molto trafficata per raggiungere la Ragusa a Catania. Si tratta di una strada la cui competenza ricade su tre comuni, Vittoria Comiso e Chiaramonte e Gulfi. Dal canto suo il commissario Piazza ha dato la disponibilità ad individuare le soluzioni tecniche più pertinenti per mettere in sicurezza il tratto stradale in questione. Buone notizie arrivano per la città di Scicli e in particolare per il recupero dell'ex convento della Croce. Ammessi a finanziamento per oltre 4 milioni di euro i lavori di restauro e riqualificazione dell'intera struttura e a darne notizie è stato il deputato Ibleo Orazio Ragusa. Sentite. Qualcosa inizia a muoversi per il recupero dell'ex convento della Croce a Scicli. L'assessorato regionale dei beni culturali ha recentemente comunicato l'ammissibilità del progetto alla richiesta di finanziamento. Si tratta di 4 milioni e 200 mila euro da destinare al restauro, riqualificazione e valorizzazione funzionale nonché impiantistica e sistemazione delle aree esterne del complesso demaniale, del convento della Croce e dell'area demaniale del sito archeologico di Castelluccio. Beneficiaria del finanziamento sarà la sovredendenza di Ragusa. La notizia è stata invece ufficialmente diffusa nelle scorse ore dal deputato Ibleo Orazio Ragusa. In tutti questi mesi, ha affermato il parlamentare a Lars, consapevoli dell'importanza che quest'opera ricopre per la comunità sciclitana, ci siamo mossi sotto traccia per non alimentare false illusioni al fine di arrivare a tagliare un traguardo che era auspicato da tutti. Ora la notizia dell'ammissibilità del progetto a finanziamento ci lascia sperare in una soluzione positiva di una vicenda che meritava una doverosa attenzione. Riteniamo che l'ex convento della Croce possa assolvere a una serie di funzioni di fondamentale importanza per migliorare la qualità dell'offerta turistica sul territorio. Tra l'altro, il progetto riprende molti dei temi di cui si era già parlato in passato, a cominciare dall'ascensore esterno che riteniamo continua Ragusa rappresenterà una novità assoluta sul piano architettonico e paesaggistico per l'area sciclitana e dell'intero Val di Noto. Ritengo, conclude il deputato Ibleo, che da qui possa riavviarsi una nuova stagione di rilancio per l'ex convento della Croce a Scicli. La politica Vittoria e la Lega dopo il periodo di Melilli riparte dal nome di Stefano Frasca e lui infatti il giovane individuato come commissario del partito che fa capo a Matteo Salvini. Tante le idee già in cantiere, sentite. Il dopo Luigi Melilli ha vittoria per la Lega. Si chiama Stefano Frasca e lui il nuovo commissario del partito di Matteo Salvini in una città che si prepara alle prossime amministrative di fine anno. Dopo il divorzio di Melilli avvenuto la scorsa settimana, ecco registrarsi quindi una nuova ondata di aria fresca con Frasca, già impegnato nelle scorse ore a un progetto di centrodestra, moderato e conservatore. Frasca, ex consigliere comunale di Sela Ami, la Cambi con alle spalle 410 voti, si dice pronto a lavorare passo dopo passo. Primo tra tutti quello di individuare la nuova sede della Lega che sarà inizialmente in via Roma per poi trasferirsi in piazza del popolo. Bisognerà inoltre fare la conta tra uscenti, neoarrivati e riconfermati per poi muoversi all'unisono in un progetto comune per la città. Ho deciso in maniera ponderata di ratificare il mio passaggio alla Lega, ha affermato Stefano Frasca, perché fortemente convinto che il progetto su cui si sta lavorando è un progetto valido ed importante, fatto da una squadra ben organizzata, un gruppo umano che coinvolge tutti i comuni della provincia di Ragusa, in sinergia con il commissario provinciale della Lega, Fabio Cantarella, col sostegno e la regia dei deputati Nino Minarde e Orazio Ragusa e dei tanti amici, dirigenti, amministratori e simpatizzanti che hanno l'obiettivo di isolare le inutili diatribe e polemiche, ma vogliono rilanciare un partito nazionale radicato sui territori. Ho scelto la Lega perché da uomo libero ho ritrovato qui quello spirito fattivo e programmatico che storicamente ha contraddistinto la mia azione e il mio impegno sociale e politico nel mondo del centro-destra. Il neocommissario leghista sembra avere quindi le idee già chiare sul da farsi puntando soprattutto sulla squadra. Giovani, attività produttive, piccole e medie imprese, sicurezza non sono altro che l'inizio di un'attività intesa che caratterizzerà l'impegno di questo nuovo orizzonte che mette e metterà al centro Vittoria e la frazione di Scoglitti, poi anche i loro problemi che andranno affrontati con uno spirito costruttivo e concreto. All'orizzonte tanta motivazione spinta anche da un nuovo percorso finalizzato alla crescita globale con l'auspicio di catalizzare forze giovani e meno giovani che si rispecchiano in questo cammino e siano in grado di contribuire in maniera produttiva alla crescita del paese. Oggi e domani, conclude Frasca, vogliamo rappresentare quella alternativa di buonsenso che la nostra vittoria merita per poter tornare a guardare a testa alta. In definitiva, da oggi già al lavoro per organizzare il nuovo assetto dirigenziale locale in sintonia con i vertici. Aveva tanto fatto discutere nei mesi passati a Modica la scelta di illuminare monumenti al centro storico cittadino con LED a luce fredda. Nei giorni scorsi si sono svolte diverse prove di illuminazione, solamente ieri è stato firmato l'accordo destinato a far cambiare volto a diverse zone cittadine. Sentite. Addio luce bianca, stile obitorio, tanto criticata a Modica e pronti al nuovo sistema di illuminazione molto più suggestivo e tradizionale, così come il buonsenso impone. Firmato ieri infatti l'accordo che sblocca l'impasse creatosi circa l'illuminazione pubblica nel centro storico di Modica. L'accordo si è raggiunto a seguito di sopralluoghi e prove di luminosità che nelle ultime settimane si sono effettuate in tutto il centro storico modicano. Stabilita quindi una pianificazione sull'utilizzo delle luci a LED nei centri storici in tutta Italia, visto che non esiste una normativa che stabilisce ufficialmente la tonalità da utilizzare. L'accordo consiste nell'installare all'interno della città della Contea tre tipologie di lampade. Nelle zone nuove e nelle campagne luce fredda di 4000 gradi Kelvin per garantire la massima visibilità sulla sede stradale. Luce calda a 3000 gradi Kelvin in parte del centro storico dove insistono edifici di recente costruzione lampade da 2200 gradi Kelvin nei quartieri storici non intaccati dalle nuove costruzioni che racchiudono i monumenti patrimonio UNESCO e costituiscono il panorama principale della città. L'accordo, firmato dal sovrintendente Battaglia, dalla ditta City Green Line e dal comune di Modica, chiude definitivamente la controversia iniziata qualche mese fa con il precedente sovrintendente e una volta per tutte pianifica le direttive che dovranno rappresentare per il futuro la legge da seguire per l'installazione dell'illuminazione nei centri storici. Ieri un accordo storico fra sicuramente il comune di Modica e la sovrintendenza per quanto riguarda la pianificazione e la regolamentazione di quelle che sono il calore delle luci nel centro storico in una città importante come Modica che diventerà anche di esempio per tanti altri comuni, visto che non c'è una normativa che regola quello che è il colore e quello che è i gradi carboni dell'illuminazione che devono essere inseriti all'interno dei centri storici. Abbiamo trovato un accordo finalmente che va nella direzione del risparmio energetico e quindi di quello che sono le direttive emanate da parte del Governo nazionale e dell'accordo internazionale e dall'altro di rispettare quelle che sono anche le specificità di ogni singolo quartiere, quindi si è deciso di continuare ad installare per quelli che ancora si devono installare nelle zone nuove della città, nelle campagne e illuminazione a led con 4 fredde a 4000 gradi Kelvin. Invece per quanto riguarda il centro storico, nella parte dove il centro storico è stato compromesso tra virgolette da nuove costruzioni, 3000 gradi Kelvin, invece per quanto riguarda la parte che integra specialmente dove ci sono insediati i siti UNESCO di San Giorgio e San Pietro e quindi tutta quella parte che viene ad essere guardata sia dal bel vedere sia dall'altra parte del pizzo, 2200 gradi Kelvin che sono di ultima generazione, che sono in commercio da qualche settimana e che si avvicinano tantissimo a quello che è il colore attuale dell'illuminazione. Bene, questo è tutto, noi ci fermiamo qui, grazie e buon proseguimento di giornata. Grazie.